Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Partiamo dalle condizioni meteo, fare attenzione per vento forte segnalato sul raccordo Lucca-Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa. Sulla A1 per materiale dispersi, rallentamenti in direzione Bologna tra Firenze Scandici e Firenze Nord. Sulla A12 code a tratti in entrambe le direzioni tra Sarzana e Carrara. Sulla Fipili in direzione Firenze, traffico rallentato tra Pisa Aeroporto e la diramazione Pisa-Livorno. Sulla Statale 64 Porrettana, all'altezza della Galleria del Signorino, restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Chiudiamo infine con i treni su tutta la rete ferroviaria toscana possibili disagi causati dal maltempo. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!